Alcuni tra voi ricorderanno che qualche tempo fa su questo canale si parlò del caso del mostro di Firenze, il più celebre caso di cronaca nera italiano, uno tra i più complessi a livello mondiale. Furono dedicati diversi video alle vicende del mostro, alle tragiche quanto sciagurate imprese del mostro, che però si interruppero per motivi di mancanza di tempo da parte del sottoscritto. Nel corso di questi mesi ho pensato spesso a riprendere l'argomento e ho pensato anche a come farlo, proprio perché mi mancava il tempo materiale per mettermi a proseguire le ricerche che avevo iniziato con tanta enfasi. Ma recentemente ho acquistato dei libri, tra cui uno che forse potete facilmente reperire, poiché è uscito qualche tempo fa in edicola, e cerca di riassumere, secondo me in maniera tutto sommato sufficiente, anche se non perfetta, una tra le vicende più complicate della storia recente italiana. Lo andiamo a vedere, nel caso vi interessasse naturalmente, però prima facciamo un piccolo riassunto circa le vicende che hanno caratterizzato le campagne fiorentine tra il 1968 e il 1985. La storia del mostro di Firenze inizia apparentemente in una notte del settembre 1974, quando due giovanissimi fidanzati, Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini, si appartano in auto in uno spiazzo nelle vicinanze di Borgo San Lorenzo, siamo nel Mugello, a pochi chilometri di distanza tutto sommato da Firenze. Sono giovanissimi, molto innamorati, anche se hanno vissuto una crisi sentimentale nel corso dell'ultima estate. Quella sera si incontrano forse per chiarirsi. Lui accompagna la sorella più piccola di lui in discoteca con la promessa di ritornare a prenderla entro la mezzanotte e poi passa a prendere la fidanzata Stefania. Probabilmente i due si dirigono subito nello spiazzo in cui la mattina dopo verranno rinvenuti i cadaveri e probabilmente prima di decidere di amoreggiare hanno una discussione che dura quasi due ore, forse una discussione chiarificatrice. Nel corso di quelle due ore però probabilmente sono osservati da qualcuno che entra in azione munito di una pistola calibro 22 prima della mezzanotte compiendo un massacro. Lui viene ucciso a colpi di pistola, lei viene tirata fuori dall'auto, ancora vivo agonizzante, e finita a pugnalate. Li ritroverà la mattina dopo un contadino che si recava nella zona abitualmente per lavorare la terra e che noterà quell'auto in quella determinata posizione. È il primo dei delitti maniacali del mostro di Firenze. Dovremo aspettare altri sette anni per osservare la seconda scena del crimine, spostandoci questa volta a Scandicci, a più di un'ora di distanza da Borgo San Lorenzo. Una notte di giugno del 1981, a cadere sotto i colpi della stessa pistola, sono Carmela Denuccio e Giovanni Foggi, anch'essi fidanzati un pochino più grandi rispetto alla coppia del 1974. Vengono ritrovati lungo via dell'Arrigo, nelle vicinanze di una discoteca, e si dice che sul luogo del crimine abbia assistito alla scena delittuosa un guardone della zona residente in un paese vicino, Montelupo Fiorentino, di nome Enzo Spalletti. La sua auto, color rosso aragosta, viene infatti ritrovata nelle vicinanze, viene avvistata nelle vicinanze da qualcuno che fornisce un'indicazione anonima agli inquirenti. Viene interrogato, viene persino incarcerato con l'accusa di essere lui l'autore materiale del delitto, anche se non vi sono prove contro di lui, ma Spalletti non dice niente. E quattro mesi dopo, nell'ottobre del 1981, la calibro 22 torna a colpire, manovrata però da non si sa chi. A cadere sotto i colpi del mostro è un'altra giovane coppia, lui residente a Calenzano, Stefano Baldi, lei residente a Firenze, Susanna Cambi. In effetti vengono ritrovati cadavere lungo una stradina sterrata di Calenzano, vicino via dei Prati. Vengono uccisi a ottobre, è l'unica coppia quindi a perire sotto i colpi del mostro in periodo invernale e non estivo. Sono anche gli unici a venire massacrati durante la settimana, un giovedì sera, anche se il giorno dopo si diceva ci sarebbe stato sciopero, anziché nel fine settimana, come tutte le altre vittime del mostro. Anche in questo caso nessun indizio utile su chi possa essere stato l'autore dell'omicidio. Viene raccolta la testimonianza di una coppia che transitava nella zona poco dopo la mezzanotte che raccontò di aver visto sfrecciare in auto un uomo dall'espressione stravolta. Viene redatto un identikit di quest'uomo ed ecco quindi saltar fuori il primo identikit ufficiale del mostro di Firenze, anche se naturalmente non si ebbe nessuna certezza che quell'uomo avvistato fosse realmente il maniaco delle coppiette. L'anno successivo a perire sotto i colpi del mostro è un'altra giovane coppia, vittima anch'essa della follia omicida del diavolo delle campagne fiorentine, mai identificato forse. Siamo a Baccaiano, è l'estate del 1982 e Paolo Mainardi e Antonella Migliorini vengono uccisi anch'essi da quella fantomatica calibro 22 che non è mai stata trovata. Mainardi tenta la fuga, viene inizialmente colpito di striscio, riesce a mettere in moto l'auto, ad inserire la retromarcia ma si dimentica di tirare il freno a mano e così l'auto si blocca nel fosso al di là della carreggiata. Il mostro quindi ha tutto il tempo per finire il suo atto omicida ai danni di Mainardi e della giovane fidanzata. I soccorritori ritrovano Mainardi in fin di vita, non più cosciente ma non ancora morto. Lo trasportano d'urgenza in ospedale, dove comunque morirà la mattina dopo senza riprendere conoscenza e quindi senza dire nulla di utile su il suo aggressore, ma i giornali ne approfitteranno su consiglio del vice procuratore Silvia della Monica per tentare un blef ai danni dell'assassino. Pubblicano cioè che Mainardi prima di morire è riuscito a parlare dicendo qualcosa di importante per le indagini. Si verificano alcune telefonate anonime ai danni dell'autista dell'ambulanza che aveva soccorso i due, tale Lorenzo Allegranti, telefonate però insomma mai seriamente confermate ecco se non dall'interessato, ma oltre a ciò non accade niente e ancora una volta l'identità dell'assassino non viene svelata. Succede qualcosa però perché complice una lettera anonima e i ricordi un po' sbiaditi che ritornano in superficie di un poliziotto insomma che aveva partecipato al ritrovamento dei giovani si collega questo ennesimo omicidio del Maniaco della Luna a un vecchio delitto che era capitato sempre nel Fiorentino a Signa nel 1968. All'epoca infatti erano stati uccisi due isolani, lei era sarda, lui era siciliano, lei si chiamava Barbara Locci, lui invece Antonio Lobianco, erano entrambi sposati ma erano amanti. Una sera si erano appartati vicino al cimitero di Signa ma erano stati crivellati di colpi. Nell'auto era presente nei sedili posteriori anche il figlio della donna che era stato portato poi qualche ora dopo vicino a un casolare da non si sa chi per chiedere aiuto e per riferire l'omicidio al quale forse aveva assistito. Per quel delitto erano stati inizialmente sospettati i fratelli Vinci, Salvatore e Francesco, entrambi amanti di Barbara Locci che aveva la fama ad essere un'ape regina insomma, soleva circondarsi di amanti. Le strade però non avevano portato a nessuna informazione utile anche se sia Salvatore che Francesco avevano un passato nebuloso insomma delle figure ambigue e la colpa era infine ricaduta sul marito della vittima Stefano Mele che era oligofrenico e che aveva accusato prima Francesco Vinci e poi Salvatore Vinci per poi tornare ad accusare nuovamente Francesco Vinci. Stefano Mele nonostante la sua insomma totale inesperienza ecco nell'uso delle armi era finito in carcere scontando la pena per l'omicidio della moglie e del suo giovane amante uscendo poi dal carcere nei primi anni 80 quando cioè quella calibro 22 comunque mai ritrovata sulla scena del crimine del 1968 aveva già ripreso la sua attività. Sì perché la pistola era la stessa era stata sempre quella calibro 22 ad uccidere Barbara Locci e Antonio Lobianco nel 1968 ed era quella stessa calibro 22 ad aver ripreso ad uccidere sei anni dopo nel 1974 e ad aver colpito nuovamente nell'81 a giugno a Scandici a ottobre a Calenzano e poi nell'82 a Baccaiano. La polizia ritorna ad indagare sul delitto del 1968 si reca da Stefano Mele che nel frattempo è uscito dal carcere ma si trova in una casa di recupero diciamo così per ex detenuti quindi sorvegliato non può essere stato lui a compiere gli omicidi e poi cercano di rintracciare Francesco Vinci che era il migliore indiziato diciamo del delitto del 68 dopo Stefano Mele. Non lo trovano però continui problemi con la malavita. Francesco Vinci è invischiato nella criminalità è sempre in fuga dalla polizia e sta anzi progettando di fuggire all'estero. Lo cercano e poi lo trovano qualche tempo dopo a casa di un certo Giovanni Calamosca sull'appedino tosco emiliano. Calamosca era un boss sardo affiliato all'anonima sequestri. Francesco Vinci viene condotto in carcere e interrogato circa i delitti del mostro. Si dice innocente. Viene perquisita anche l'abitazione del nipote di Francesco Vinci figlio di Salvatore. Si chiama Antonio Vinci e anche lui ha un profilo criminale da fare invidia allo zio e al papà ma anche su di lui gli inquirenti non trovano alcunché. Francesco Vinci viene condotto in carcere ma intanto il mostro continua ad uccidere. L'anno successivo l'estate successiva nel 1983 a Giogoli un nuovo delitto. Questa volta le vittime sono tedeschi sono stranieri e sono tutte e due uomini. Uv Rusch e Horst Mayer. Uno dei due ha i capelli lunghi e biondi e quindi si pensa che forse il mostro l'abbia confuso scambiandolo per una donna. I due vengono uccisi all'interno del loro furgone con cui stavano visitando l'Italia ma nessuno dei due viene interessato da segni di alcoltellamento. E qualcuno pensa che l'autore dell'omicidio possa essere stato Antonio Vinci con l'intenzione di scarcerare lo zio al quale era parecchio affezionato. Quindi nuova perquisizione nella casa di Antonio Vinci ma ancora una volta non salta fuori niente e Francesco rimane comunque in carcere fino all'anno successivo nel 1984 quando a Vicchio avviene quello che è passato alla storia come il più sanguinario, cruento, feroce e violento degli omicidi del mostro. Altre due persone però nel frattempo sono finite in carcere. Si tratta di Giovanni Mele, fratello maggiore di Stefano Mele, il marito di Barbara Locci e Piero Mucciarini, cognato di Stefano Mele, cioè marito di una delle sorelle di Stefano Mele. Entrambi sono accusati di aver preso parte materialmente al delitto del 1968 e aver agito nei successivi delitti del mostro. Anche su di loro però le prove sono scarse. Tanto nel 1984 a morire sotto i colpi del mostro sono Pia Rontini e Claudio Stefanacci, entrambi residenti a Vicchio, a poca distanza da Borgo San Lorenzo, il paese nel quale nel 1974, esattamente dieci anni prima, erano stati uccisi Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Il delitto è sicuramente il più feroce tra quelli commessi dal mostro di Firenze. Oltre ad asportare la pelle del pube dal corpo della giovane Pia Rontini, operazione che aveva eseguito sino a partire dal giugno 1981, cioè dal delitto di Scandicci, asporta anche la mammella sinistra dal corpo della giovane ragazza. Il cadavere di Claudio Stefanacci invece viene attinto da una serie di coltellate post-mortem. Mai il mostro si era accanito con tanta ferocia sul corpo maschile. Vinci, Giovanni Mele, Piero Muccerini, nessuno di loro può essere stato. Erano tutti quanti detenuti in carcere in quel momento. Vengono tutti quanti liberati e viene preso seriamente in considerazione Salvatore Vinci, su cui si vengono a sapere anche strane storie relative al suo passato. Si parla di una sua ex moglie, madre di Antonio Vinci, tale Barbarina Steri, che era stata uccisa in circostanze poco chiare nella Sardegna di inizio anni Sessanta. Qualcuno parla di suicidio, qualcun altro invece giura che ad ucciderla sia stato proprio il marito. Salvatore Vinci, che all'epoca del delitto, la sera del delitto, aveva un alibi, poi risultato farlocco. E a proposito di alibi, Salvatore Vinci ne tira fuori uno totalmente assurdo per la notte del 1984, per la notte cioè dell'omicidio di Pierontini e di Claudio Stefanacci. Incredibilmente però gli inquirenti gli credono e quindi Salvatore Vinci non viene condotto in carcere. C'è però da dire che sia sulla scena del crimine di Giogoli che su quella di Vicchio, le impronte, insomma le tracce ritrovate, suggeriscono un'altezza dell'aggressore di almeno un metro e ottanta e Salvatore Vinci non arrivava neppure al metro e sessantacinque. Difficile quindi che sia stato lui a commettere quei due duplici omicidi. Bisogna cercare altrove. Nasce quindi la SAM, la squadra antimostro, cioè una squadra di poliziotti interamente concentrati sulla vicenda del mostro di Firenze. Le indagini però non hanno veramente il tempo di svilupparsi perché l'anno dopo, nel 1985, avviene un altro omicidio, l'ultimo della serie del mostro di Firenze, anche se all'epoca non si sapeva ancora che sarebbe stato l'ultimo. Le vittime questa volta sono Jean-Michel Kravitchvili e Nadine Muriot. Sono francesi e vengono uccisi in una tenda, in via degli Scopeti, nelle vicinanze di San Casciano, Val di Pesa. Anche in questo caso lui tenta la fuga, scappa dalla tenda dopo essere stato attinto dai primi colpi di proiettile ma viene raggiunto dal mostro e viene finito a coltellate. Verrà ritrovato il pomeriggio successivo da un tale di nome Luca Santucci che si trovava a cercare funghi lì in zona e che scoperto il cadavere avvisa immediatamente le forze dell'ordine. Chi è stato quindi? Si continua ad indagare per qualche anno sui sardi fino a quando il giudice istruttore Mario Rotella nel 1989 assolve definitivamente tutti i protagonisti della vicenda fino a quel momento. Francesco Vinci, Salvatore Vinci, Giovanni Vinci, l'altro fratello Vinci, Antonio Vinci, il figlio di Salvatore nonché nipote di Francesco Vinci, alcuni altri amanti di Barbara Locci tra cui Marcello Chiaramonti, Carmelo Cutrona che erano stati presi in considerazione da Stefano Mele durante le sue varie accuse insomma a membri della cerchia sarda. Vengono assolti definitivamente anche Giovanni Mele e Piero Mucciarini, fratello e cognato di Stefano Mele e viene assolto anche Enzo Spalletti, il guardone che era finito nei casini per l'omicidio di Scandicci 1981. Tutto da rifare quindi, siamo nuovamente al punto di partenza. Ma, 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 nel 1985, l'anno quindi dell'ultimo delitto del mostro, alla procura di Firenze era arrivata una lettera anonima che invitava ad indagare su un certo Pietro Pacciani, un contadino sessantenne residente a Mercatale, una frazione di San Casciano in Val di Pesa. La lettera anonima si scoprì poi anni dopo che fu scritta dal vicino di casa di Pacciani che mal sopportava i comportamenti decisamente rudi, alquanto violenti, appunto, del contadino mugellano. Sì, dico mugellano perché Pietro Pacciani era nato a Vicchio, teatro dell'omicidio del 1984, in quello stesso Mugello in cui nel 74 era avvenuto l'omicidio di Borgo San Lorenzo. In quegli anni Pacciani era finito in carcere per violenza sessuale sulle due figlie e nel 1989 inizia ad essere seriamente preso in considerazione per gli omicidi del mostro di Firenze, anche perché nel 1951 lui in carcere c'era finito per un omicidio vero e proprio, detto l'omicidio della Tassinaia, avvenuto a Vicchio nei primi anni 50, appunto, nel 1951. Pacciani, che aveva, insomma, fama di essere iroso, focoso, era soprannominato il vampa per il colorito rosso, insomma, della sua faccia e anche perché si diceva, insomma, che aveva mangiato il fuoco per far colpo su una ragazza in gioventù, aveva ucciso il suo rivale in amore nel 1951, nel bosco, appunto, della Tassinaia, nel territorio di Vicchio del Mugello. La fidanzata si chiamava Miralda Bugli, era più giovane di lui e quel giorno Pacciani l'aveva seguita sorprendendola con un tale Severino Bonini, che era un cenciaiolo sorpreso ad amoreggiare assieme a lei. Si racconta che appena Bonini gli sollevò, gli scoprì il seno sinistro alla fidanzata di Pacciani. Pacciani sbucò fuori, insomma, dal nascondiglio dal quale assisteva la scena e si avventò con furia inaudita sul Bonini, che era grosso il doppio di lui, riuscendo comunque a sopraffarlo e accoltellandolo più volte col coltellino che si portava in tasca. Il seno sinistro, ricordate? Lo stesso seno che venne prelevato non solo a Pierontini, la penultima vittima del mostro, ma anche a Nadine Muriot, la francese uccisa nel 1985 a scopeti. Basta questo particolare, forse anche un po' romanzato, per incriminare Pietro Pacciani? Ci sono anche altri elementi che convincono poco gli inquirenti e che spingono ad indagare con sempre più attenzione nella vita di Pacciani. Ad esempio, in casa sua viene rinvenuto un blocnotes di provenienza tedesca, che in maniera anche piuttosto grossolana viene collocata alle vittime uccise a gioco. Le ricordate due ragazzi tedeschi, Uvrush e Horst Mayer? E poi nell'orto di casa sua viene ritrovata una cartuccia simile a quella dei proiettili utilizzati sulle scene del crimine dal mostro di Firenze, anche se si scoprirà anni dopo che quella cartuccia non la mise Pacciani in quell'orto, ma la misero gli inquirenti che indagavano su di lui. A partire dal 1994 si tiene il processo a Pietro Pacciani, ripreso anche dalle telecamere del programma televisivo un giorno in pretura, in onda sulla Rai. Pacciani viene difeso dagli avvocati Rosario Bevacqua e Pietro Fioravanti, mentre invece all'accusa c'è il pubblico ministero Paolo Canessa e il presidente è Enrico Ogni Bene, lo stesso giudice che aveva processato Pacciani per la questione delle violenze ai danni delle figlie, anche se la difesa questo non lo fa notare. L'impressione che quindi il processo sia stato in qualche modo pilotato verso la colpevolezza di Pacciani fin dall'inizio è lecito. Vengono chiamati a deporre una serie di testimoni inverosimili, quasi tutti poco attendibili, che improvvisamente dopo anni, dopo quasi dieci anni dall'ultima scena del crimine, si ricordano di aver visto Pacciani in praticamente tutte le situazioni sospette. E alla fine di questo infinito iter giudiziario Pacciani viene comunque riconosciuto innocente dei fatti. Proprio quando si decide di tornare ad indagare su Pacciani qualche anno dopo, Pacciani muore, in circostanze forse anche un po' sospette, nonostante comunque non stesse proprio benissimo a livello di salute. Il processo che si tiene successivamente si va però ad indirizzare su altri due personaggi, entrambi conoscenti, forse anche amici di Pietro Pacciani. Uno è Mario Vanni, il postino di San Casciano in Val di Pesa, il paese in cui viveva Pacciani. E l'altro si chiama Giancarlo Lotti, soprannominato il Catanga. Si dice sia un minorato mentale ed è proprio lui a raccontare delle verità alquanto discutibili circa la figura di Pacciani e quella di Vanni. In seguito alle testimonianze di una certa Gabriella Ghiribelli, prostituta fiorentina, che racconta di aver visto la sera del delitto di Scopeti, l'auto di Giancarlo Lotti davanti alla piazzola del delitto, Lotti racconta da prima di aver visto Pacciani e Vanni commettere l'omicidio ai danni dei francesi e poi racconta addirittura di aver preso parte ad altri delitti della serie del mostro, tra cui quelli di Baccaiano e quelli di Giogoli, cioè quelli dell'82 e quelli dell'83. In seguito racconta di essere stato presente anche all'omicidio del 1984, quello di Vicchio, e poi racconta di aver sparato lui, su sollecitazione di Pietro Pacciani, nel 1983 a Giogoli, ai due tedeschi e in effetti le tracce suggerivano la presenza di un assassino alto almeno un metro e ottanta, un'altezza cioè compatibile con quella di Giancarlo Lotti. Lotti racconta cioè dei particolari, alle volte decisamente inverosimili sui delitti, però dimostra di conoscere alla perfezione quei luoghi e dimostra quindi che ci sia qualcosa di vero in quello che racconta, anche se le sue dichiarazioni rimangono comunque nebulose e a nulla servono gli sforzi dell'avvocato difensore di Mario Vanni, Nino Filastò, nel cercare di tirargli fuori la verità. Sono in molti in questi anni a tirare fuori le ipotesi più disparate sugli avvenimenti in questione. Per Nino Filastò, per esempio, Giancarlo Lotti è soltanto un mitomane e l'autore degli omicidi potrebbe essere stato un poliziotto, un uomo della questura o forse un uomo che si è spacciato per poliziotto, forse per tranquillizzare le vittime che però sono state tutte quante colte di sorpresa. Per Michele Giuttari, poi subentrato nelle indagini, Pietro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende, cioè Mario Vanni, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, amico di Giancarlo Lotti, agivano dietro compenso per una sorta di setta esoterica che li pagava, cioè per uccidere delle coppiette nel fiorentino, per non si sa quale reale ragione, e prelevare dei fetici umani da consegnare poi a loro dietropagamento. Sì, perché Giancarlo Lotti aveva raccontato in uno dei numerosi interrogatori a cui era stato sottoposto, di aver visto un giorno in centro a San Casciano Vanni parlare con un medico ben vestito, insomma, probabilmente ben altolocato. E qualche mese dopo l'ultimo delitto del mostro, quello dell'85 a Scopeti, a Perugia, nel lago Trasimeno, era stato ritrovato in circostanze decisamente misteriose il cadavere di Francesco Narducci, un gastroenterologo di grande fama, insomma, nella zona. Narducci forse si era suicidato o forse qualcuno l'aveva ucciso e il particolare che fosse morto proprio pochi mesi dopo l'ultimo delitto del mostro, che non avrebbe più colpito, fa pensare a qualcuno che proprio Narducci sia stato lui l'autore dei delitti. E qualcuno pensa, invece, tra cui anche Giuttari, che Narducci possa essere stato il mandante di questi omicidi commissionati, non si sa perché, a tre contadini di paese con un'arma tutt'altro che, insomma, precisa, come appunto una calibro 22, poco più che una scacciacani. Un'ipotesi che traballa pericolosamente, ma che viene seguita per parecchi anni, non solo da Giuttari. Alla fine, sia Mario Vanni che Giancarlo Lotti vengono riconosciuti colpevoli di alcuni delitti del mostro, quelli dall'82 in poi. Quello del 68 rimane con Stefano Mele come colpevole e quindi rimangono scoperti i tre delitti che vanno dal 74 all'81, Borgo San Lorenzo, Scandicci e Calenzano. Giancarlo Lotti, in quanto collaboratore di giustizia, quanto mai bizzarro, ottiene uno sconto di pena. Ma comunque lui e Vanni muoiono entrambi poco dopo il loro ingresso in carcere. La questione, quindi, si chiude con un gigantesco punto interrogativo. Chi è stato realmente ad eseguire i delitti del mostro di Firenze? E dopo aver, secondo me, doverosamente riassunto questa complicatissima vicenda di cronaca nera, ci ritroviamo in una posizione decisamente più comoda per parlare, buonasera a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Cannotv, del contenuto di questo libro. Il mostro di Firenze, terrore in Toscana è il suo sottotitolo. Fa parte di una collana da edicola intitolata I volti del male. E, in effetti, è l'ennesimo libro, insomma, scritto sul mostro di Firenze nel corso di questi anni. Ne sono stati scritti tantissimi nel corso degli ultimi decenni. Alcuni sono stati scritti da alcuni dei protagonisti, insomma, di questa vicenda, quindi avvocati, magistrati, poliziotti, giornalisti. Naturalmente, ognuno di questi presenta un punto di vista differente sulla vicenda del mostro. Sappiamo che ci sono moltissime teorie, insomma, dalle più plausibili, alle più assurde sull'identità del maniaco della luna, del maniaco delle coppiette. Questo è l'ultimo libro, in ordine cronologico, diciamo, ad essere stato scritto. Si tratta della quinta uscita di una collana da edicola edita dalla EMSE, intitolata, denominata, insomma, I volti del male. Una collana che va ad indagare su alcuni dei più efferati, dei più feroci, scusate, i criminali della storia dell'umanità. Quindi non solo serial killer, ma anche condottieri generali, criminali politici, criminali di guerra. Un vero e proprio escursus, quindi, nella storia criminale da tutte le sue angolazioni. E la quinta uscita, che poi era, insomma, quella che maggiormente mi interessava di questa collana, riguarda proprio, appunto, il più importante caso di cronaca nera italiana, il più feroce, insomma, tra gli omicidi seriali italiani, che poi è rimasto avvolto nel mistero, perché sappiamo, appunto, che su questa vicenda non è ancora calato definitivamente il sipario. Cioè l'identità, insomma, del mostro di Firenze non è ancora stata trovata. E in effetti, già dalla copertina, vediamo, tra l'altro molto bella, insomma, la grafica di copertina, che l'immagine scelta, insomma, per, appunto, comparire in copertina di questo volume, altro non è che l'identikit tratto nel 1981, in seguito all'avvistamento di una coppia che, nei pressidi di Calenzano, poco dopo l'omicidio che coinvolse Stefano Baldi e Susanna Cambi, vide, insomma, un uomo sfrecciare su un'auto rossa dall'espressione stravolta e i cui tratti somatici furono, in qualche modo, raggruppati, velocemente raggruppati in questo identikit, che poi è stato il primo, insomma, tratto riguardante, insomma, il mostro di Firenze e forse tuttora il più celebre. Un identikit che, però, si discosta molto dalla fisionomia di tutti i sospettati coinvolti, ecco, quindi già questo ci fa capire quanto sia già in partenza, fosse già in partenza stata nebulosa questa vicenda. Il libro è stato scritto da Carlo Antonioli e viene proposto al pubblico al prezzo di 8,90€, quindi fondamentalmente 9€, lo stesso prezzo delle altre uscite, naturalmente, di questa collana. Si tratta di un volume di circa 150 pagine, vi dicevo della confezione perché la confezione, secondo me, è molto carina. La copertina è, secondo me, fatta molto bene, vi mostro il dorso, la quarta di copertina dove naturalmente vi è un piccolo riassunto, insomma, della vicenda in questione. Il libro è fornito di alette, nonostante la copertina, insomma, sia flessibile, come potete vedere, ed è un bello oggettino da tenere in mano, sebbene il prezzo non sia effettivamente bassissimo per un'uscita da edicola, naturalmente per un libro invece è un prezzo piuttosto basso, anche se si tratta appunto di un libro piuttosto sottile, però dà una buona sensazione, insomma, tenerlo in mano. E, secondo me, va riconosciuto a Carlo Antonioli lo sforzo di aver riassunto in maniera, a mio avviso, tutto sommato piuttosto efficace, una vicenda complicatissima che di pagine ne pretenderebbe ben di più. Il libro si suddivide in quattro capitoli, più un'introduzione e un epilogo, quindi qualcuno potrebbe definirne sei di capitoli. Si sceglie di partire a raccontare la vicenda dall'omicidio del giugno 1981, quello di Scandicci che coinvolse Carmela Denuccio e Giovanni Foggi, quindi si sceglie di partire a raccontare la vicenda del mostro dalla sua fase seriale, cioè prendendo in considerazione gli omicidi che vanno dall'81 all'85, per poi compiere subito dopo un passo indietro, tornando al 74, quindi raccontando l'omicidio di sette anni prima avvenuto a Borgo San Lorenzo. Da lì riprendere poi il racconto che passa per Calenzano, per Baccaiano, quindi per gli omicidi di ottobro 81 e per l'omicidio insomma dell'82, del 1982, per poi naturalmente concentrarsi sulla parte sarda, la parte relativa alla pista sarda, tornando indietro fino al 1968 e raccontando il primo omicidio, quello che coinvolse Barbara Locci e Antonio Lobianco e che poi vide insomma come unico condannato Stefano Mele per poi proseguire appunto nel racconto degli altri omicidi, arrivando poi fino all'ultimo dell'85 a Scopeti. Dopodiché incorporata la pista sarda nella parte relativa al racconto dei delitti, si sceglie di dare spazio naturalmente ai compagni di merende, quindi non solo Pacciani ma anche Vanni, Lotti, Puggi, Faggi insomma e tutti coloro che sono entrati in qualche modo nelle indagini relative ai compagni di merenda per poi raccontare oltre ai processi, quindi il processo Pacciani, il processo dei compagni di merenda anche la vicenda naturalmente del medico morto nel lago Trasimeno, ovvero Francesco Narducci con tutte le teorie che sono sorte intorno a questa figura e alla sua misteriosa morte, perché tutto c'è di misterioso in questa vicenda. L'ultimo capitolo considerato tale da alcuni di questo libro, l'epilogo cioè riguarda la mostrologia, quindi tutti gli studi che si sono in qualche modo sviluppati attorno alle sentenze ufficiali ecco del caso del mostro di Firenze e che secondo me consiste anche nel capitolo più interessante di questo libro, proprio perché vi si offre un qualcosa che forse non si era ancora visto in altre pubblicazioni letterarie relative appunto al caso del mostro di Firenze. Cioè si vanno in quest'ultimo capitolo ad elencare tutte le teorie alternative, dalle più disparate, insomma dalle più plausibili appunto le più assurde come vi ho detto prima, elencando un po' queste correnti alternative che almeno nei documenti ufficiali non vengono naturalmente prese in considerazione. Si parla quindi delle teorie dell'avvocato Nino Filastò che credeva che il mostro potesse essere un poliziotto o comunque una persona vicina agli ambienti giudiziari, oppure la teoria di Mario Spezzi che credette di individuare in Antonio Vinci, il figlio di Salvatore Vinci e il nipote di Francesco Vinci, il vero responsabile dei crimini avvenuti nelle campagne fiorentine. Si pone anche l'accento sull'ex legionario Giampiero Vigilanti, coinvolto in tempi piuttosto recenti nelle indagini. Si menziona anche l'ipotesi di Francesco Bruno, del criminologo Francesco Bruno, che credeva che il mostro fosse una persona mai presa in considerazione dalle indagini e si menziona anche la pista recentemente sviluppata da Paolo Cocchi, quella del Rosso del Mugello, basata su alcune testimonianze di persone che vivevano nelle vicinanze dei delitti che sono entrate in contatto magari anche con alcune delle vittime circa un misterioso uomo dai capelli rossi, dai capelli radi, ecco, rossi, che sarebbe stato visto in atteggiamenti sospetti in quelle zone, in quei tempi. Una pista mai presa seriamente in considerazione, fino ad arrivare alle teorie più disparate, ad esempio quella che vede Joe bevi l'acqua, testimone italo-americano al processo, Pacciani rilasciò una deposizione piuttosto ambigua, fu giudicato attendibile in prima istanza per poi venire giudicato inattendibile, scusate, in appello, che vedrebbe, insomma, questa figura essere sia il mostro di Firenze che addirittura Zodiac, cioè essersi trasferito, secondo alcuni, in Italia dopo aver compiuto i delitti del serial killer, anche esso mai identificato Zodiac, per poi, appunto, una volta in Italia, commettere gli omicidi poi passati alla storia come attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. Naturalmente delle teorie decisamente meno plausibili, ecco, di altre più meritevoli di attenzione, che però vengono, assieme ad altre, elencate nell'epilogo di, nel capitolo finale, insomma, di questo libro, in maniera, secondo me, piuttosto interessante. E, a proposito di interesse, ecco, suscitato da questo volume, che però presenta alcuni piccoli refusi, secondo me, io ci ho individuato qualche errore ortografico, avvisaglia forse di una minor cura, ecco, editoriale rispetto ad altri prodotti, io penso che questo libro, anche per il prezzo, tutto sommato, non elevato, se lo si confronta con altri libri relativi al mostro di Firenze, può, secondo me, rappresentare un ingresso piuttosto agevole nella vicenda. Nonostante alcuni particolari, nonostante alcuni risvolti di questa vicenda, non siano stati menzionati all'interno di questo libro, per ovvie motivazioni anche. Il caso, naturalmente, come sappiamo, è complicatissimo, quindi ci andrebbero molte pagine, naturalmente, per descriverlo al meglio, e questo libro non vuole descriverlo nella sua completezza, ma, secondo me, vuole fungere soltanto da ingresso, appunto, per i neofiti. Ecco, per i neofiti io mi sentirei di consigliare questo libro, perché può essere un ottimo ingresso, appunto, in questa vicenda. Bene o male vengono citati tutti i nomi importanti, ecco, che meritano di essere, in qualche modo, approfonditi. La vicenda a grandi linee è raccontata senza particolari errori, senza grande confusione, a mio avviso, e aver presentato, insomma, tutte queste teorie alternative nel capitolo finale del libro, io l'ho visto come un qualcosa di molto onesto. Ecco, permettetemi di dirlo. Il libro non si trova più in edicola, perché nel frattempo la collana è andata avanti, naturalmente, però la copia è facilmente ordinabile. Io non ho comprato altri libri di questa collana, quindi non so come altri argomenti diversi, naturalmente, dal Mostro di Firenze, siano stati trattati, però mi sentirei di promuovere, ecco, questa iniziativa, perché quello che c'è scritto, insomma, in questo libro corrisponde al vero. È un ottimo riassunto, non è assolutamente facile operare un riassunto circa questa vicenda, e per i neofiti, cioè per chi si vuole approcciare per la prima volta a questa vicenda, secondo me può rappresentare la pubblicazione più ideale. Per chi, invece, questa vicenda la conosce già e non ha bisogno, insomma, di entrarci, ecco, per la prima volta, mi sentirei di sconsigliare questo libro, poiché è piuttosto inutile, tutto sommato, seppur ben raggruppate, le informazioni che si possono trovare all'interno di questo volume non sono diverse dalle informazioni che si possono trovare, reperire, sparse in rete, ecco. Quindi per chi avesse già acquistato altri libri sul Mostro, per chi fosse in qualche modo già abbastanza a conoscenza, ecco, delle dinamiche relative a questo argomento, io tutto sommato direi che questa pubblicazione risulterebbe piuttosto inutile. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi chiedo di chiedermi, insomma, che cosa ne pensate di questo libro qualora l'abbiate comprato, qualora l'abbiate acquistato, qualora l'abbiate letto, e di dirmi che cosa ne pensate della collana qualora abbiate comprato e letto qualche altro volume appartenente appunto a questa iniziativa. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto di questo video e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo filmato. Buon proseguimento di serata.